Proseguiamo con la nostra lezione. Andiamo sul menu principale, plugins e misure. Come vedete abbiamo alcuni plugins dedicate alle misure e alle ripetizioni. I plugins non sono altro che degli strumenti che ci aiutano ad automatizzare e a velocizzare alcune operazioni. Vediamoli in rassegna. La prima è la creazione della coda. Come vedete in queste due righe ho creato una coda. Proviamo a ricrearlo in queste due righe. Allora per prima cosa dobbiamo selezionare le battute che vogliamo diventino coda, quindi da qui a qui. Poi plugins misure creazione della coda. Qua è impostato lo spazio orizzontale prima della coda, cioè questo vuoto che c'è all'interno del rigo. Dopodiché possiamo inserire il simbolo di coda, oppure il testo coda, oppure creare alla coda nella misura e specificare la misura. Qua sotto possiamo scegliere o da capo al coda oppure dal segno alla coda o nessuno. Se creiamo il segno dal segno alla coda diremo in che battuta inserire questo segno. eliminiamo questo e selezioniamo crea alla coda. La misura è la numero 16. Inseriamo 16 e poi basterà fare ok e finale farà tutto. Il secondo plugin, numero alle misure ripetute, serve appunto per aiutare gli strumentisti in caso avessero a che fare con battute ripetute, come vediamo nell'ultimo rigo della prima pagina. Selezioniamo le misure ripetute, plugins, misure, numero alle misure ripetute e come vedete al di sopra delle misure verranno inseriti i numeri 1, 2, 3 e 4. Il terzo plugin riazzera il posizionamento dei numeri di battuta, semplicemente serve per riposizionare i numeri di battuta nella posizione predefinita, la posizione di default. Dopodiché abbiamo ripetizione in mezzo alla battuta, è quello che vedete qui in questo primo rigo. Anche in questo caso dovremo prima selezionare con il mouse la parte desiderata, riproviamo in questo secondo rigo, poi plugins, ripetizione in mezzo alla battuta, e finale farà automaticamente la ripetizione. Abbiamo poi stanghette automatiche e cambio tonalità. Come sapete quando c'è un cambio di tonalità di solito vengono inserite delle doppie stanghette per evidenziare appunto il cambio di tonalità. Allora anche in questo caso è molto semplice, selezioniamo le battute interessate, plugins, stanghette automatiche e verranno inserite le doppie stanghette ad ogni cambio di tonalità. Suddivisione della misura ci serve appunto per suddividere una misura a una determinata pulsazione. In cosa può esserci utile di solito? Per inserire ad esempio una battuta in levare all'interno di un brano. Se noi fossimo all'inizio del brano, basterebbe andare in documento, misura in levare e qui selezionare l'impulso che desideriamo. In questo caso avremo già la battuta in levare pronta. Vediamo l'esempio. Cancelliamo momentaneamente queste note, evidenziamo la battuta, documento, misura in levare e decidiamo che il levare sarà appunto di un quarto. Possiamo inserire come sempre anche il numero in edus. Ok. La nostra battuta avrà come vedete il valore di un quarto. Se però siamo all'interno del nostro brano non possiamo fare la stessa cosa. Allora ci avvaleremo di questo strumento, il plugin suddivisione della misura. Per esempio qua. Selezioniamo ancora una volta la misura. Suddivisione della misura. Decidiamo dopo quante pulsazioni suddividerà la misura. In questo caso dopo una pulsazione perché vogliamo che la nostra anacrusi sia di un quarto. Poi lo stile della stanghetta può essere invisibile o tratteggiata. Scegliamo noi per esempio tratteggiata ma non è importante perché poi la cambieremo. Questa opzione va deselezionata, sposta sul rigo successivo alla seconda parte della misura. Se vogliamo appunto fare una misura in levare dobbiamo deselezionarla. Rimarrà selezionata se vogliamo suddividere una misura molto lunga su due righi diversi. Quindi deselezioniamo. Ok. In questo caso evidentemente non avevo selezionato l'intera misura. Clicchiamo comunque su continua e vediamo che la nostra battuta è stata suddivisa. Un quarto, linea tratteggiata e poi i tre quarti. Cosa dovremmo fare adesso? Andare o nello strumento misure oppure semplicemente col tasto destro su questa battuta modificare la stanghetta di battuta in normale. Attenzione però che di solito le battute in levare non vengono considerate come battute intere e quindi non presentano la numerazione sulla battuta. Allora dallo strumento misure facciamo doppio clic e deselezioniamo includi nella numerazione delle battute. In questo modo la nostra battuta sarà appunto considerata a tutti gli effetti una battuta in levare. L'ultimo plugin si chiama unificazione di due misure cioè se vogliamo che due misure diventino appunto una sola con un tempo ovviamente doppio. Allora prendiamo ad esempio queste due misure e selezionando questo plugin vediamo che la misura diventa di otto quarti.